We are, we are, we are, we are through to present Con un video consigli Consigli basilari per poter partire e fare quanto più potete Allora teniamo presente che io non ho mai giocato a un Fallout Questo è il primo Ma mi ci sto trovando benissimo col sistema di gioco Quindi penso che avrei amato anche gli altri Allora ragazzi Fallout 4 cosa volevo portarvi di magari così non Diciamo non scontato ecco Allora io direi di partire Proprio ragazzi dal nostro inventario Perché voi dovete sapere che Fallout 4 Perché è quello che ho giocato io È uno stupro mentale di inventari Perché ci sono tutti questi inventari che all'inizio vedete Che cazzo succede nella mia vita Allora l'inventario è suddiviso nelle varie opzioni Abbiamo i dati in cui vediamo le missioni, le officine, le statistiche, la mappa, la radio E le statistiche che ci indica la nostra salute Le nostre condizioni I special sono le abilità che abbiamo Invece i talenti sono delle specialità che appunto ci permettono di ottenere dei vantaggi passivi Anche attivi Io però voglio parlare dell'inventario adesso perché è la parte più complicata Allora nell'inventario viene depositato tutto ragazzi Armi vestiario provviste in varie materiali e varie sarebbero tipo collezionabili I materiali che vi servono per modificare le armature e le vostre modifiche che Detto sincero ragazzi io non ho ancora capito Perché cazzo sono presenti lì le modifiche Perché se voi Nel senso castello standard Fucile da caccia Questa è una modifica per il castello di un fucile da caccia Adesso voi dite tu la depositi Non ce l'avrai più No se io la deposito ad esempio nell'officina Non è che mi si leva dall'arma che sto impugnando Rimane comunque Quindi penso che siano delle modifiche che una volta che costruite o trovate Le salvate in un'officina E non avete bisogno ogni volta di ricrearle Ma non ne sono sicuro Comunque dicevo inventario E le munizioni Ah ragazzi una cosa molto importante nel vostro inventario è il peso Come The Witcher 3 infatti O possiamo dire Faccio l'esempio con The Witcher 3 Voi avete del peso Che in questo caso è posto in basso a sinistra Il mio peso massimo è 270 Significa che se io raggiungo e supero i 270 Il mio personaggio non correrà più Andrà a questa velocità Quindi ci mettete un'ora sopra la mappa Alla armi ragazzi Esistono vari tipi di armi in questo gioco Esistono i pistole Innanzitutto distinguiamo i vari tipi di armi Esistono quelle a danni possiamo dire balistici Danno a energia Danno da mischia E poi c'è da radiazione e da veleno Allora quelle da radiazione e da veleno ancora non le ho trovate Perché ragazzi per dirvi io devo ancora fare la prima missione Dove sta Eccolo Devo ancora fare questa Quindi ho solo esplorato Infatti se voi guardate la mia mappa Ho praticamente esplorato un sacco Ma non ho fatto missioni Se non quelle che mi capitavano a tiro Allora ragazzi quindi le armi E le armi in particolare le mie Io vi consiglio di sistemare le armi in base al vostro inventario In particolare io porto un fucile da cecchino Che è sempre utile Perché dalla distanza volete andare in stealth Fucile da cecchino assolutamente In questo caso ho voluto mettere due armi a energia Invece che due mitragliatrici Due mitragliatrici perché? Allora le mitragliatrici Ne ho di due tipi Ho quella che va a munizioni da .38 Che è questa Che è una pistola ma la potete trasformare in mitragliatrice Come la maggior parte delle armi E poi c'è la Thompson La... Quella da gangster Che ho preferito levarla per lasciare questa Perché questa ragazzi è un'arma leggendaria Che infligge anche danni a fusione Cioè danni da energia Poi c'è un fucile a pompa Che ragazzi in questo gioco Il primo gioco in cui io uso il fucile a pompa forza Perché quando entro in delle... In dei luoghi chiusi E ci sono dei ghoul Fucile a pompa come non finisse È la pistola primaria Che non sembra mai fortissima Ma proprio forte forte Siamo modificate Poi ho anche un lanciamissili Che ho trovato da poco Con zero munizioni adesso E un'arma da mischia In questo caso un guanto Da box Leggendario per di più Quindi Allora ragazzi Quello di cui volevo parlarvi Come sistemare le vostre armi Io vi consiglio di mettere un'arma per tipo In questo caso io avrei trovato adesso Anche un'arma che va a munizioni Da 45 se non erro Ed è La voglio equipaggiare Ma prima la voglio modificare Quindi come si modificano le armi Dovete andare al vostro banco da lavoro Ehm... Aspettate Prima di dire questo Volevo dirvi un'altra cosa Allora ragazzi Quando voi iniziate il gioco Arriverete in questa città Che è la vostra città principale E io vi consiglio di fare di questa città Il vostro hub Cioè da qui dovete trasferire Tutti gli oggetti che raccogliete Tutti gli oggetti che non usate Che poi volete vendere Smaltire Tutto di tutto Lo dovete conservare Tutto qua dentro Tutto quanto Niente escluso Tutto Perché? Perché voi volete vendere una cosa Avete bisogno di tappi Che sono i soldi Prendete da qua e li andate a vendere Quindi questo per voi O un'altra parte Vi consiglio questo Perché è primo Deve essere il vostro hub principale Tanto ci potete arrivare Semplicemente viaggiando Dico questo perché Perché io ad esempio Ho delle armi Che devo modificare Ma non ho le componenti per farlo Allora che faccio? Me le conservo tutte qua Quando trovo Il tempo per modificarle Me le modifico Ad esempio io voglio modificare Questo fucile da caccia Che adesso lo prendo Ed elimino Perché c'è leggenda Io voglio modificare Questo fucile da caccia No Dove sta? Questo fucile da caccia Che secondo me è fortissimo Perché ogni colpo che Sparate esplode All'impatto Voglio modificare Questo fucile da caccia Ma non posso Perché io non ho le componenti Lo deposito Fino a nuovo Fino a nuovo avvenire Allora ragazzi Volevo prendere pure questa Che volevo mostrare Allora quindi Voi cosa fate? Voi andate a questo Vostro banco di lavoro Che sta qua proprio all'inizio Io ho solo spostato Messo tutto vicino Senza dovermi fare In volte chilometri Allora Voi ragazzi Venite qua E che dovete fare? Voi potete modificare Le vostre armi Allora dovete tenere presente Che il peso dell'arma Incide sulla velocità Con cui voi prendete la mira L'unica cosa ragazzi E che ho detto sincero Su sto gioco La maggior parte della gente Ti viene sopra Manco fosse un dannato E se non vi viene sopra Gli starete a distanza Quindi la velocità Per prendere la mira O ce l'avete Se state a distanza O non ce l'avete Quindi del peso Io me ne sbatto altamente Il cazzo Ok E io ci vado Di aggiungere Il più cose possibili Di peso Al massimo Evito lì dove posso Per trasportare più roba Ma non ci penso proprio Alla mira Allora ragazzi In questo caso Come modificare Le vostre armi Esistono innanzitutto Le pistole E i fucili In base a come Voi rendete un'arma Potete trasformarla In pistola o fucile Ovvero Questo che io ho Soprannominato Fucile dell'istituto E in realtà Una pistola Da cui io posso Ho messo Innanzitutto La canna lunga Vabbè la canna lunga Non c'entra C'entra più l'impugnatura Inizialmente era così Con un'impugnatura Impugnatura a pistola Io ho messo Il caccio completo E è diventato Un fucile Vero e proprio Ah Ora ragazzi Le armi Le modificate In base alle vostre preferenze Se le volete Tutte automatiche Io vi consiglio Di variare un po' Ad esempio Io ho La carabina Questa qua Che è leggendaria Appunto Che ha Più 10 Danno energia E può sciogliere nemici E' una bomba ragazzi L'ho trovata Da un nemico leggendario Quando l'ho trovata Sono stato felice Tipo al settimo cielo E ci aveva già montato Il castello automatico potente Quindi E' una bestia Ehm Voi scegliete la vostra arma E modificate In base a come la volete Non la volete automatica Mettete un altro tipo di castello Poi in base al castello Che mettete Possono variare anche le munizioni Esempio Se io metto questo Ehm Mi metto un castello A punto 45 Ovvero dove le munizioni Vanno appunto A 45 Però Ehm Non mi diventa più automatico Perché il castello Per questo tipo Non c'è Ehm I vari castelli Poi per ogni arma Abbiamo il castello Ovvero il tipo di munizioni Che usa E come le usa Cioè se è il raffico A colpo singolo La canna Che incide sul peso Sulla gittata Sulla portata Il calcio Sulla precisione Caricatore Che è Caricatore I mirini E il rompifiamma Che incidono su Vari parametri Tipo Ehm In culo Cose così Ehm Queste sono armi Tipo ballistiche Perché se poi a voi Andate sul Per farle Vi serviranno appunto Delle specialità Che poi vi dico Ehm Poi ci sono le armi laser Le armi energia Diciamo Che invece Vanno a condensatori In particolare Questo è il moschetto primario Che va a carica Voi dovete girare la manovella E quello carica Più colpi Tutti in una volta Ed è molto potente Anche questo leggendario Ragazzi E fa paura Perché figge 15% in più Di danni critici Durante lo spov Ed è Ragazzi E' una bestia Appunto Ehm Quindi Ehm Questa è un'altra pistola Che ho trovato Dai Dai gunner Che è un gruppo Che ho trovato Erano Altissimi di livello Ho sprecato 14 razzi E tutta un'armatura atomica E praticamente Ho trovato questa pistola Che voi dite E' uguale a quella di prima Ehm No Perché ha più cose In particolare Guardate le canne Come variano Variano anche le impugnature Varia un sacco Questa pistola E quindi Me la tengo Per poi Quando posso potenziarla Ragazzi Cosa vi serve Per modificare le armi Quando voi andate A Voler modificare un'arma Vi viene mostrato In ba A destra Tutte le componenti Necessarie Per appunto Poter modificare Quell'arma Le componenti Vi vengono date Appunto Dai Dai materiali Che stanno qui In particolare I materiali Quando voi Li raccogliete Tra virgolette Non vi vengono mostrati così Acciaio Legno Molla Vi viene mostrato Il nome Dell'oggetto Ovvero Cosa vi voglio dire Voglio dire Che quando voi Andate in giro Per il Commonwealth Voi troverete Tipo Lattina di birra Tappo di bottiglia Adesivo Ognuno di questi oggetti Ha all'interno Di se stesso Alcuni materiali In particolare Questa è una chiave Inglese Chiave inglese Mi da Acciaio per due Quindi Ogni componente Ogni oggetto Ha dei materiali Quindi Voi raccogliete Questi oggetti Poi automaticamente Li trasferite All'interno Della vostra Officina E automaticamente Vengono trasformati In materiali O Se ci sono i materiali E Quando si finiscono Li smonta Automaticamente Li trasforma in materiali Item Per le armature Ragazzi Solo che Per le armature Sempre lo stesso Sistema Di modifica Cazzi e mazzi Solo che Per le armature Voglio fare un argomento A parte Perché Per ora Io ho trovato Due tipi O meglio tre Ma due tipi Di armature Quelle in cuoio E quelle in metallo Quelle in cuoio Vi Tendono a far aumentare Più la velocità E meno la resistenza Viceversa Quelle in metallo E Adesso Proprio prima di registrare Ho trovato Questa qua In materiale sintetico Che Credo sia Una versione Del cuoio Ma potenziato Quindi ci sarà anche Una in metallo Ma potenziata Dico questo perché Perché ovviamente Questo è il livello Più alto Ragazzi Voi In base Ogni armatura Ha vari gradi Di modifica Che potenziano Il materiale stesso Questo qua È al primo potenziamento E ha già 9-12 Quella che avevo io Aveva già di meno Quindi Significa È più potente Io vi consiglio Di ovviamente Ogni armatura nuova Che trovate Se è più forte Ve la indossate Però Attenzione Al Al tipo di modifica Che ha Perché se voi Ad esempio Trovate Un'armatura Che non lo so Io ho questo torace In metallo Che a metallo Mi manca ancora Il metallo lucido Da mettere Mettiamo caso Che trovo un'armatura Che mi dà 22-11 Dico Ah è più forte E vedo che Però quell'armatura Sta già all'ultimo stadio Invece questa Ancora ci deve arrivare Ed è più potente Dico no Fa un culo Mi lascio questa Poi quando Ha potenzio Cioè È più forte Quindi questo è il ragionamento Che volevo fare E ogni armatura Ha in sé Anche una variante Ovvero un tipo di Potete dare un potenziamento Gli potete mettere Un materiale leggero Che gli permette Di pesare di meno Un ammortizzante Che gli dice La negata Non ha forzato Riduce i danni Attenuato Il rumore Che fate Capiente Il peso Trasportabile E poi potrete Mettere anche La riduzione Che secondo me È quello che metterò Praticamente Quasi a tutti Perché è di Un'utilità Ragazzi Veramente Bestiale Le radiazioni Sono a morte Su sto gioco Che dopo Andremo a trattare anche Quindi Queste sono le armature E idem Per le componenti Che vi servono Ehm Ah sì Allora Ragazzi Le I materiali Le vari Le provviste Ragazzi Volevo dire Le provviste Le provviste Sono i cibi Che voi potete consumare Per appunto Recuperare La vostra vita Allora dovete fare attenzione Ragazzi Perché non tutti i cibi Sono puliti Ovvero ci sono cibi Che voi prendete Soprattutto i cibi Scatola Tipo la carne Cram Che ad esempio Che prima Della Che era quella Presenta ancora prima Del Che il mondo Fosse irradiato Che appunto Presenta delle radiazioni Quindi se voi la mangiate Facciamo finta di mangiarla Ci da più 5 radiazioni In questo caso Perché la carne Mi dava più 5 radiazioni Cosa sono le radiazioni Ragazzi Le radiazioni Sono Per definizione Delle radiazioni Che una volta Che man mano Che aumentano Vi levano le porzioni di vita Ovvero In questo caso Io ho un valore Di radiazioni Pare a circa Il 3% Lo vedete Lì a destra Sul piboi Significa Che il 3% Della mia vita Meglio Il 30% Della mia vita È praticamente Fottuto Cioè Io quella porzione Di vita rossa Non la devo considerare Perché la vita Parte dall'inizio Dove è verde Non da dove è rosso Quindi le radiazioni Sono un bel dito in culo Ragazzi Come 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 Curarvi dalle radiazioni Per curarvi dalle radiazioni Dovrete usare Un radaway Il radaway È appunto Per definizione Come dice lo stesso nome Radiazioni via Significa Che vi leva Il 30% Di radiazioni O meno 300 Insomma Voi le usate E le radiazioni scendono Come potete vedere La mia vita Non è che Si recupera Rimane dove stava Ecco Adesso le radiazioni Sono scese A meno del 10% Come si fanno Tutte queste cose Voi direte Le provviste Le cose Allora Innanzitutto Ragazzi Se voi Se voi Uccidete gli animali Qualsiasi tipo di animale Dalla mosca Una talpa Un cervo Voi potete Cuocere il cibo Per ottenerne Una carne cotta Che può Non solo farvi Recuperare la vita E non darvi Radiazioni Ma può Per di più Anche darvi Dei vantaggi Come puoi Rispirare Sott'acqua Resistenza A radiazioni Cose così Poi ci sono Le utilità Le utilità ragazzi Una cosa importantissima L'amido L'amido vegetale Vi funge D'adesivo Una volta Che voi Costruite Questo componente Ottenete Ben 5 Di adesivo Ragazzi L'adesivo E' la cosa Più rare Da trovare In questo mondo Ed è la cosa Che vi mancherà Sempre Per poter Creare Le vostre armi Per creare potenziamenti E le vostre armi Armature Sempre Quindi l'amido vegetale Appena potete farlo Fatelo subito Le zuppe Le zuppe Sono sempre Dei cibi Particolari Che vi donano Non solo vita Ma anche altre cose Le bevande Le bevande Sono invece Cazzate Cazzate È il cazzo Che eviterei pure Di parlare Le droghe Ragazzi Allora Oltre alle provviste Nel vostro Nel vostro Nelle vostre provviste Categorie delle provviste Vi sono presenti anche Le droghe Le droghe sono Come diceva Parla stessa Delle droghe Che vi possono Dare Dei vantaggi Ovvero In che senso Sono delle droghe Che vi aumentano Possiamo dire Le vostre statistiche Per un totto di tempo Però possono darvi Dipendenza Ovvero Io mi sono drogato Come fossi un matto Di buff Perché il buff Mi dà più forza E costituzione Quindi mi aumenta Il peso trasportabile Perché la forza Aumenta il peso trasportabile Per 8 minuti Io quando vado In sovrappeso Senza dover lasciare Tutto in un punto Poi ritornare Riprendere tutto E ritornare qui Al mio hub Usavo il buff Per velocizzare il tutto L'unico problema È che se ne prendo Una volta troppo in fretta Mi dà la dipendenza Da buff Ma non da buff Ma da buff In generale Quindi buff jet Buffs Psico buff Tutto dipendente La dipendenza Che cosa vi dà Vi diminuisce Le statistiche Costantemente Voi vi prendete Altro buff Vi riduce ancora di più Quindi dovete Prendere qualcosa In modo che Per rimuovere Queste dipendenze In particolare Gli effetti delle dipendenze Li potete vedere Dallo stato Qui Se fate In questo punto R1 Che in questo caso Io non ho niente In alto a sinistra Sulla sinistra A fianco Tipo alla vita Del braccio destro Trovate Trovate Dei segni Se vuoi Premettere uno Vi dice Gli effetti Che avete in alto Facciamo così Allora Vi mangio Una bella cosa Radiazione Resistenza Le radiazioni Sì Vabbè Radix A cazzo Vedete E' comparso Un segnale E quel segnale Mi indica Che io sono Resistenza Le radiazioni Per più Cento Per tutto Tempo Allora Lo stesso Indica Se avete Una dipendenza Se non hai Una dipendenza Ve lo indica La Voi cosa fate E dico Oh cazzo Sono dipendenza Qualcosa Cosa posso fare Per curarvi Potete O usare Un addictal Che è un oggetto Che io per ora Ho potuto solo Trovare E non creare Oppure dovete Andarvi a creare La bevanda Dissetante La bevanda Dissetante E' particolarmente Difficile da creare All'inizio Perché richiede Un sacco di oggetti Utilissimi E soprattutto Richiede la sacca Di sangue Che non è così Facile da trovare Io non ho trovate Così tante Perché sono andato In un In un cosu Come si chiama In In una clinica Quindi c'è la sangue A go go E non vi dico Quante succhia sangue Quindi voi usate La bevanda Dissetante Che rimuove Tutte le radiazioni Cura le dipendenze E Vi ripristina Un po' di vita Quindi Proprio Boom boom Voi siete dipendenze Da qualcosa Subito Bevanda Dissetante O addictal Se ce l'avete Poi abbiamo appunto Le droghe Che sono quelle Che potete creare E usano ad esempio Per dirvi Usano la plastica Il Le droghe base Usano Fertilizzanti Plastica Piombo Tutto di più Ok scusate Stavo dicendo Se avete il particolare talento Appunto quella Di Esperto in demolizione Potete creare le granate Poi ci sono anche le mine E Le utilità Che sono un lubrificante Qui da petrolio Acciaio E infine abbiamo Le munizioni stinger Lo stinger è un'arma particolare Che ho trovato così Per cazzo Che Inietta delle siringhe Che danno tipo Dei Come dire Indeboliscono i nemici Li confondono Li fanno perdere sangue Cazzate del genere Io non lo userò mai Praticamente Quindi Allora abbiamo parlato Anche del provvista Adesso direi di parlare Proprio Del Delle varie Nelle varie ragazzi Vengono messe Tutte Le vostre Cazzi Tutti i vostri cazzi Tipo Olonastri Chiavi Fumetti In particolare I fumetti I fumetti Una volta che li raccogliete Vi danno Dei talenti Allora Direi di iniziare a parlare Proprio dei talenti Allora ragazzi Una volta che voi Aumentate il livello Vi viene dato un punto xp Il punto xp Può essere usato Per aumentare O le vostre specialità Oppure Ottenere Un nuovo talento Il talento E in particolare Un'abilità Che può essere attiva O passiva Che aumenta Certe statistiche Ad esempio Per creare Armi un po' più potenti Avete Dovete necessariamente Avere Il talento Fanatico Di armi Che vi permette Di fare Particolari modifiche Per far ciò Però dovete avere Un livello Minimo di intelligenza Ovvero Per avere Ad esempio Un altro esempio Io voglio usare Esperto di robotica Devo avere Intelletto Pari a 8 Io adesso L'intelletto Ce l'ho a So contare A 6 Di conseguenza Dovrei dare Altri due punti All'intelletto Per poter Ottenere Appunto Il Esperto Di robotica Ragazzi ci sono La marea Di talenti Qua dovete Dovete fare Invece al vostro Stile di gioco Io quelli che vi consiglio Principalmente Di sbloccare Sono scienza Esperto di armi Armaiolo Fabbro Al massimo Perché vi servono Per modificare Le armi Poi il resto Ragazzi Sta a voi Veramente Decidere Cosa Cosa potenziare Cosa no Io vi consiglio Anche Tantissimo Scassinatore E hacker Perché sono Di una Cioè veramente Di un'utilità Incredibile Scassinare Vi da un sacco Di Vi apre un sacco Di strade Vi fa trovare Tanti oggetti Utilissimi Soprattutto Comunque A linea massima La forza Aumenta il peso Trasportabile I danni in mischia La percezione L'uso Dello spav Che dopo Vi mostro cos'è La costituzione I danni Che potete Subire E La vostra vita Il carisma La capacità Di persuadere Le persone E Anche di Convincere i clienti Intelligenza La quantità Di Punti esperienza Ottenete Ogni volta Che fate Un qualcosa Perché qui Ogni cosa Vi da punti esperienza Ragazzi Create un oggetto Create una nuova modifica Una qualsiasi cosa Vi da esperienza L'agilità Indica il numero Di punti azione O possiamo dire Così alla bloodborne Barra della stamina Che senza la quale Non potete usare Nello spav Che è il sistema Di puntamento Automatico Della voltec Eh Nè correre Nè fare un cazzo E la fortuna Indica la possibilità Di trovare cazzate E In particolare Questo è un buonissimo Bonus Della fortuna Ragazzi È proprio Un po' bestiale Quindi Allora I fumetti Quando voi trovate Dei fumetti Vi vengono donati Dei talenti Automaticamente Ovvero Ad esempio Io ho trovato Tre fumetti Dell'incredibile L'incredibile Uno mi ha dato Rigenera un punto Salute al minuto Incredibile L6 infliggi 5 danni Ai merluc 5 danni Più 5% Durante la notte Scienza La tesla Vedete Questo addirittura Gradi Le armi Energia infliggono Più 5% I danni Grigi Cioè Tutti questi Tutti i fumetti Vi danno Delle specifiche Dei specifici Vantaggi Ora ragazzi Non è che se voi Vendete il fumetto Perché ha un valore Comunque Elevato Vediamo se ne trovo Uno Ecco Ha valore 100 Non è che se voi Lo vendete Lui non vi permette Vi leva il bonus L'ho già visto Io ho venduto Un fumetto Che si chiamava Viviama Che cazzo era Che è Viviama 4 Che vi permetteva Appunto di ottenere Più 25 punti Esperienza Quando Persuadete una donna Io l'ho venduto Il talento è rimasto Quindi li potete vendere Tranquillamente Solo che io vi dico Attenzione a quello che vendete Io una volta Recuperai un oggetto Che era di una missione Che non sapevo Che era di una missione E Magicamente Ho completato una missione Senza sapere Di avere questo oggetto E per fortuna Che non l'avevo venduto Quindi vendete con attenzione Quello che avete qua dentro Soprattutto chiavi Che non sapete Se avete usato Ma non le vendete Anche perché Non c'hanno manco valore Tenete conto Che tutti gli oggetti Che sono presenti in varie Non hanno pesi Non hanno proprio peso Quindi potete Potete anche evitare di vendere Poi abbiamo i materiali Che ho già parlato Le modifiche Che riguardano le armi E le armature Io vi consiglio di sbatterle Tutte quante dentro Il vostro hub E infine Munizioni Che anche queste Non occupano La benché minima Quantità di peso Quindi potete Star tranquilli E non levarli Vabbè Poi abbiamo la mappa I dati Che vi vengono Le missioni Le statistiche Voi ho parlato pure Della radiazione Ragazzi Quindi Un'altra cosa Di cui volevo parlarvi E magari Le armature L'armatura atomica Ragazzi L'armatura atomica Va a nucleo a fusione Io ho trovato La bellezza Di quattro armature atomiche Vabbè Quella iniziale E più altre due Altre tre Scusatemi Ma A livello di necessità Ve ne serve Una e una sola Vi basta avere Una sola armatura atomica Allora in particolare L'armatura atomica Più forte È quella Che ha come Come componenti La T-51 Le T-51 Sono i componenti Più forti Infatti Io qui ne ho La bellezza Di quattro Su sei Sono importantissime Ragazzi Quindi Una volta Che trovate tutte Le T-51 Fatevi un'armatura Tutta T-51 Poi qui Sto costruendo Un'armatura Solo T-45 Appunto Infatti ho tutto T-45 E qui invece Mi sto facendo Un'armatura Da predone Ovviamente però Io userò La T-51 Perché per l'appunto La più forte Radix Effetto Ok Attenzione ragazzi Le armature Possono essere Modificate Da qui Come potete vedere Ogni armatura Ha in più Anche Delle varianti Che arriva Fino al modello F Ogni variante È più potente Dell'altro Sono proprio Consequenziali Non vi potete sbagliare Solo che per farlo Avete bisogno Di scienza Che ho E serve Armaiolo Grado 4 Per fare questo Ad esempio Che è il più potente L'armatura Che vantaggio vi dà L'armatura Aumenta Il peso trasportabile Riduce i danni Che inflitti Azzera Il danno Da caduta Da qualsiasi Da qualsiasi Altezza E poi potete Trasportare Anche il cannone Il cannone Rotante Che è il cannone Ultra Mega Overbower Strafico Da usare Per di più Quindi ragazzi Allora Dell'officina Non la benché Minima voglia Di parlarvene Anche perché Non sono cazzi Che minimamente Mi riguardano Cioè nel senso L'officina ragazzi È un po' Una minchiata Ve la vedete voi Decidete voi Se farla Se non farla Quindi Allora Un'altra cosa Di cui volevo parlare Cioè Innanzitutto Esplorate tantissimo Ragazzi E ovunque andate Mettete a soquadro Il posto Per poter Non voglio scambiare alcune cose Non voglio scambiare un cazzo Per vedere Che cosa È presente In quella In quella zona Ovvero Cosa voglio dire Si è tacciate Proprio ogni buco di culo Per vedere Se trovate Materiali Ragazzi Senza materiali Non vi vede Su sto gioco Veramente È qualcosa Di Incredibile Comunque C'è un'altra cosa Poterne Poterne mirare Mi hai rotto il cazzo Vola come si deve Di puntarne Degli specifici Arti Allora ragazzi Attenzione In base al numero Presente Sull'arto In questione Voi avete una diversa Probabilità Di colpire Il bersaglio Una diversa precisione Invece Quella barra Indica La quantità Di Di vita In particolare Ragazzi Allora Se voi Distruggete Completamente Una parte Del corpo Dell'avversario L'ho Menomata E cioè Praticamente Impedite All'avversario Di fare Particolari azioni Adesso Io cerco Di sparare Alla Oh L'ho shottato Vedete L'ho colpito In un punto Vitale Allora Se voi Colpite L'avversario In un punto Particolare Ad esempio Mettiamo caso Che abbiamo davanti Un umano Se lo volevo colpire Ad esempio Alle braccia Gli impedirete L'uso delle braccia Le gambe L'uso delle gambe E così via Impedendone Particolari Usi Di cose Tipo ad esempio Idem vale per voi Se tutti gli avversari Vi sparano sulle braccia Voi perderete L'uso delle braccia O per meglio dire Avrete un diverso Non riuscirete A mirare A ricaricare Come Come normalmente Dovreste fare Se vi colpiscono Il torso Recuperate più lentamente I punti azione Se invece Vi distruggono Quasi del tutto La testa Tenderete A Recuperare A vedere Strano E non avere Un buon uso Dello spav Che è appunto Questa abilità Se invece Vi colpiscono Le gambe Camminate più lentamente Diminuisce il peso Trasportabile Ora Cosa molto importante Cosa succede Se appunto Vi viene Menomato Un arto In particolare Vi viene indicato Non solo qui Sullo stato Nella sezione Stato Dove La vita scende a zero Adesso Il torso A me Si sta abbassando Perché mi hanno colpito Come curare un arto Dovete usare Uno steam pack Che appunto È una siringa curativa Che non occupa peso Ricordiamolo E che vi permette Non solo di recuperare Il 30% di vita Ma anche di Appunto Donarvi Del Di Ristabilire Gli arti Parte degli arti Rotti Danneggiati Un'altra cosa Molto importante Ragazzi Peso trasportabile Casomai voi siete Nella merda Di Cazzo C'ho troppo peso Voi che fate Premete x sul cane Poi quadrato Per commerciare E gli date Quello che volete Nel senso Il cane può trasportare Quasi quanto Il vostro peso In conseguenza Io ho 220 di peso Lui può trasportare 200 Voi gli date Tutto quanto Fino a quando Non vi scaricate E potete continuare A esplorare Poi quando Diventate troppo pesanti Pure voi Ritornate indietro Scaricate tutto quanto E ricominciate ad esplorare Ok Semplice Semplice Comunque ragazzi Mi scuso per L'enorme lunghezza del video Ma se vi devo Spiegare le cose Come si deve Ho bisogno di tempo Soprattutto in un gioco così Allora io adesso Vi lascio Se volete altri consigli Ad esempio su Non lo so Su particolari utilizzi Come Che cazzo ne so Può essere Come achierare Come scassinare Che magari non sono del tutto chiari Soprattutto l'achierare Basta che me lo fate sapere In un commento Vi porto un video Giusto una spiegazione veloce Da commento Forse per l'achier Vi devo portare un video Perché Non è proprio semplice Ho messo un po' a capirlo Quindi Non so Se volete un video Basta che me lo fate sapere E niente ragazzi Se ho dimenticato qualcosa Fatemelo sapere E niente Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi